Alitalia vola, non è troppo lungo, sono sette lettere ed è bello perché si vedono le ali, si vede il cielo, si vede l'azzurro e si vede l'Italia dall'alto. Alitalia. È stato bravo che ha inventato questo marchio, come aveva fatto un annunzio con parole altrettanto evocative, ma Alitalia è solo sette lettere. Ita è una diminuzione incomprensibile. Se vogliono risparmiare, non risparmiano sulle lettere, possono risparmiare su altro, non risparmiano, trasformando una bella immagine, un marchio alato, un marchio pieno di poesia in una diminutivo Ita che non vuol dire neppure la nostra bellissima nazione. Ali taglia, nient'altro, così deve essere, così è giusto che sia. E il governo difenda quel marchio, che è il marchio con una grande storia, è del marchio di una nazione che si è distinta da tutte le altre che hanno scelto Air per chiamare le loro compagnie aerei. Noi Alitalia, e Alitalia sia.